Se quando apri il pesce, prendi il pesce fresco, lo apri, hai visto le uova, c'è le uova, però le uova sono appoggiate in pellicola, trasparente, un sacchettino trasparente che tiene le uova, questo non va rotto, viene levato intero. Allora, come viene levato intero, ci sta diciamo la prenatura, c'ha le vene dal sangue del cuoco, per non diventare nero, vedi che è chiara, vedi che ci stanno dei punti che resta oscuro, queste sono macchie di sangue, per evitare che ci sia troppo questo, vai con uno stilo, con la punta del coltello, rompi la vena e con il ditto ci passi così, no, con il ditto passi così e scorti questa vena del sangue. Fatto questo, prendi un pezzo di legno, posi sul pezzo di legno e lo copri di sale, lo copri di sale, allora...